Segui La7 anche su Instagram. La7, ovunque con te. Segui La7 è riuscirato, gli altri segretari hanno fallito? Beh, è una donna, speriamo di fino. Io mi sono iscritto al paddino, mi sono iscritto alla corrente del paddino. C'è una festa per noi, una nuova primavera. Io sono convinto che La7 ce la farà, perché è molto, molto determinata. Quindi dichiariamo Stefano Borancini Presidente della Commissione. Non ci possono essere altre magliette che indossiamo, che non siano ora tutti insieme, quelle del Partito Democratico. Io non mi sento minoranza, neanche meno opposizione. Unità e cambiamento si possono unire la... Sarà una segreteria di unità e cambiamento, sarà un partito che sicuramente tornerà a dire, a fare cose di sinistra e soprattutto tornerà a fare quello che dice, cosa che il PD non era molto scontato. Non era la corrente di Bonacciniere. Ah sì, io le correnti, no, ci siamo, no, no. Lavoriamo insieme, dobbiamo lavorare insieme. Con un governo così, con tutti i disastri che sta facendo, sarebbe un delitto non lavorare insieme. Dentro la segreteria ci saranno persone di valore, profili di competenza, che dunque nessun anacquamento, ma collaborazione per marciare spediti tutti assieme. Non verrà allogorata dalle correnti. Non verrà allogorata dalle correnti. Consiglio da un ex segretario alla nuova segretaria. Avanti, con determinazione. Non rifinanzeremo mai più la guardia costiera minnita. La linea minnita è stata un errore politico? Eh beh, lì sono stati problemi che sono risultati, sono dimostrati evidenti in alcuni aspetti persino drammatici. Adesso dobbiamo però lavorare insieme. Saremo giudicati da quello che sapremo fare, oltre che da quello che proviamo a dire. Lì per Giorgio Armonio, il suo figlio di Cristalba non si roge la sole, ma soltanto insieme.